Buon pomeriggio. Oggi, lunedì 17 aprile, partiamo con il progetto delle isole ecologiche interrate di comunità. Come è stato detto già, tutti i cittadini che abitano in prossimità delle stesse potranno soffrire delle isole ecologiche interrate utilizzando la card che è stata data la votazione. L'orario è dalle 17 alle 24. Tutti gli altri utenti invece che non abitano in prossimità delle isole ecologiche interrate usufruiranno del servizio porta a porta. Sia i cittadini che conferiranno nelle isole ecologiche interrate, sia coloro che usufruiranno ancora del servizio porta a porta, lo dovranno fare seguendo il nuovo calendario di conferimento che partirà oggi 17 aprile. Per i primi giorni troverete vicino ad ogni postazione un operatore, un'operatrice che vedete qui, che ringrazio di vero cuore per il lavoro profuso in questi giorni, che appunto vi aiuteranno nel conferimento. Il conferimento è molto semplice e proveremo a farlo oggi insieme. Io conferirò il mio sacchetto di plastica, proprio perché si contenisce oggi la plastica, presso la postazione in piazza Principa Meteo che è appunto la postazione di mio riferimento. Allora come si fa? Dobbiamo pigiare sul pulsante, attendere che si accenda il display, appoggiare poi la card in questo modo, aspettare il bip, aprire la vasca, inserire il sacchetto di tutto e chiudere la vasca in questo modo ed è fatta. Una manovra semplicissima e alla portata di tutti. Noi vi ringraziamo e vi aspettiamo per chi vorrà venire qui da noi. Buona serata.